Ciao ragazze, è finalmente arrivato il pacco da Perles & Co e lo apriamo adesso insieme. Allora, ci ha messo all'incirca 6 o 7 giorni lavorativi, io ho scelto la posta prioritaria, mi è costata 1,60€. Bustina imbottita, tiriamo fuori tutto. Allora, non ho preso tantissimo perché volevo usare i soldi che avevo sulla posta e pay senza dover ricaricare. Allora, qui c'è la fattura che mandano, con su riepilogato tutto quello che ho preso. Allora, cominciamo dalle perline, dunque, le Delica. Ho preso queste della Miyuki, sono 8,11,0, il codice è DB0150 e sono marrone con il dorato all'interno. Sono molto, molto carine. Poi, come Delica ho preso queste nere, perché devo fare su ordinazione un anello nero argento. Le ho prese per quello, sempre 8,11,0, codice DB0010. Un nero semplice, sarebbe il jet, mi pare, come definizione, no, black, lo chiamano semplicemente black. Poi, sempre per le Delica, ci sono queste che sono stupende. Sono le DB0146,11,0,8 grammi. Sono il color Smoky Amethyst. Anche queste hanno l'argentato all'interno, sono molto belle. Poi, passiamo alle Rokai. Ho preso queste, codice MR15132FR. Sono 8 grammi, 15,0. Sono le Topaz Matte AB. Esatto. Sono un giallino, più che AB, sono molto, molto opache. Allora, la B si vede un po', ma veramente poco. Le ultime Rokai che ho preso sono 1508, grammi, codice MR152439. Sono le Light Smoky Topaz Gold Luster. Hanno appunto questi riflessi dorati, sempre un color crema. Poi ho preso dei Cabochon. Ho preso questi due Cabochon. il colore, allora, Cabochon 11-22, Rivoli 14 mm, rose. Questi li abbinerò alle Delica Color Amethyst. Poi ho preso un Cabochon in vetro, tondo nero.